Eccoci e bentornati sul mio canale, oggi un video diverso dal solito perché è legato appunto a Call of Duty Black Ops 2 Non parleremo del DLC 5 di Call of Duty Black Ops 3 e non parleremo di Call of Duty World War 2 Perché parliamo di Call of Duty Black Ops 2? Perché in questi giorni è stato nominato come il miglior gioco della serie secondo i giocatori competitivi, quindi secondo i giocatori esports Il tutto arriva da un'intervista rilasciata su Eurogamer.net da Shane McCarroll, un giocatore veterano ed esperto appunto del mondo del competitive di Call of Duty Ha dichiarato che Call of Duty Black Ops 2 è stato il gioco più amato dalla maggior parte dei giocatori professionisti in quel periodo Perché a differenza dei Call of Duty attuali c'era un aspetto tattico veramente molto importante Infatti quelli di adesso dichiara che sono basati maggiormente sulle sparatorie e sui tempi di reazione Invece prima si potevano attuare delle buone strategie d'azione Lui ricorda la sua esperienza quando andò a Dunaheim per Call of Duty Black Ops 2 quando il suo team era completamente sconosciuto Considerate che nel girone iniziale vinsero tutti i match e poi essendo una testa di serie molto bassa dovette raffrontare gli impact i campioni del mondo E la cosa molto bella è che nella prima mappa li distrussero battendoli addirittura di 250 punti Quindi la frenesia e la bellissima emozione che provavano ad essere ritifati da un pubblico americano non aveva precedenti Quindi conferma che Call of Duty Black Ops 2 era semplicemente bilanciato in ogni suo aspetto E ricorda ad esempio che quando si venivano presi di sprovvista da un team che utilizzava ad esempio le granate stordenti Uno poteva riuscire a reagire indossando le maschere tattiche Quindi il gioco era molto più complesso e per tale ragione si potevano surglassare gli avversari Quindi sperano nuovamente di tornare a vivere queste esperienze con il prossimo capitolo della saga Ed è dello stesso discorso Philip Whitfield un ex pro player che poi è diventato caster per questi eventi esport Infatti la dichiarazione di quest'ultimo legata sempre a Call of Duty Black Ops 2 È che era un gioco molto semplice da vedere e da capire E spera anche lui che quest'anno si torna nuovamente a vivere queste esperienze e questi bellissimi match Con il prossimo capitolo targato Sledge Hammer Games Fatemi sapere che cosa ne pensai di questa notizia Ma soprattutto se siete d'accordo anche voi se Call of Duty Black Ops 2 è il miglior capitolo della serie Per poter giocare competitivi ma soprattutto se è il titolo che vi è piaciuto di più di tutta la saga di COD E noi ci vediamo con tanti nuovi video Se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale Mettete un bel mi piace sul mio video E ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video Sempre qui, sempre sul mio canale